Doveva chiamarsi Romano. Mamma Rosa, papà Silvano e le sue sorelline lo aspettavano. A casa era tutto pronto, culla e corredino. Nonni e zii chiedevano solo di conoscerlo. Invece Romano è morto nel giorno in cui doveva nascere. La tragedia si è consumata la notte tra il 26 e 27 luglio scorso all'ospedale San Giovanni di Dio, a Crotone. I familiari, difesi dagli avvocati Ivan Gerardi e Tiziano Saporito, hanno presentato denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta. 14 gli indagati tra medici e personale del nosocomio, un atto dovuto. Eseguita nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto anche l'autopsia sul corpo del bimbo ma gli esiti si avranno solo tra 90 giorni. La vicenda di mamma Rosa e del suo bimbo inizia il 24 luglio. Rosa ha superato la quarantunesima settimana di gestazione, lascia la sua casa di Petiglia Policastro per il ricovero programmato all'ospedale San Giovanni di Crotone. Viene monitorata e la sera del 26 luglio inizia il travaglio, le contrazioni sono sempre più forti ma il bimbo non nasce. Seguono molte ore di dolori e tentativi di fare nascere il bimbo spontaneamente. È notte quando la situazione precipita, Rosa viene portata d'urgenza in sala operatoria. Troppo tardi, il cuore del bimbo non batte più. Il piccolo viene dichiarato morto. La mamma tornerà a casa senza quel figlio tanto atteso. Questa la successione degli eventi. Cosa sia successo nelle lunghe ore del travaglio e se la morte del neonato sia frutto di un errore medico sarà la magistratura ad accertarlo. La famiglia adesso chiede di conoscere la verità e avere giustizia. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.